Marek, Museo dell'Arte Recuperata Tradizione non è adorazione della cenere, ma custodia del fuoco. Gustav Mahler Sono passati quasi 20.000 anni da quando i nostri antenati più remoti hanno tracciato nelle grotte di Lascaux, nel sud della Francia, alcuni segni sulle pareti di roccia a cui l'umanità, molti millenni dopo, ha dato il nome di opere d'arte. Conosciamo molte cose di quelle tracce, di quei disegni sulle pareti di roccia, ma ciò che non sappiamo davvero e che possiamo solo supporre ed immaginare è il perché questi ominidi hanno tracciato quei segni sui muri che noi possiamo senza alcuna esitazione chiamare arte. Ciò che era in principio nel fare arte e nel goderla, vive ancora in tutte le imprese umane che continuiamo, a volte ostinatamente, a chiamare con questo nome. Ancora risuona quel perché insondabile ogni volta che ci troviamo davanti a un'opera. Ci troviamo davanti al suo mistero, a quella capacità insondabile di un oggetto materiale di connetterci con ciò che materiale non è, quella intrinseca forza che le opere portano con sé. L'arte è l'unico prodotto umano, materiale, che sorge nel tempo, nella storia, ma si nutre e trae la sua essenza e la sua forza da ciò che è senza tempo. Un cataclisma geologico ha sigillato per millenni le grotte di Lascaux, preservando quegli affreschi preistorici e mantenendoli in perfetto stato fino ai giorni nostri. Non sempre però i cataclismi aiutano a preservare le testimonianze della creazione artistica, anzi, di solito, le devastano, facendole scomparire per sempre, monumenti affreschi, quadri, edifici civili, chiese. Questo è ciò che è successo in queste terre, le terre dell'Arcidiocesi di Camerino e San Severino Marche, colpite assieme a molte altre dai terremoti del 2016 e del 2017. Qui la natura ha fatto il suo corso e l'uomo ha dovuto lottare innanzitutto per sopravvivere e poi per mettere in salvo ciò che gli è più caro. Questa è la storia che vogliamo raccontarvi. La storia del salvataggio di migliaia di opere d'arte sommerse dalle macerie, dopo che la terra ha cominciato a tremare. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia lo chiamò Sequenza Sismica Amatrice Norcia Visso, una serie di scosse che colpirono diverse regioni del centro Italia tra l'agosto del 2016 e il gennaio 2017. Il cratere sismico si estese su una superficie che comprende diverse decine di comuni dislocati nel Lazio, in Umbria, in Abruzzo e nelle Marche. Nel complesso i feriti furono quasi 400 e i morti 303, tre dei quali per arresto cardiaco causato dallo spavento. Gli sfollati furono più di 40.000 e gli edifici pesantemente danneggiati e distrutti ad oggi si contano a centinaia. Oltre a tutte queste cifre, seppure fondamentali, ci sono alcuni danni, alcune ferite, che non sono in alcun modo misurabili. Non parliamo solo delle vite spezzate, delle intere famiglie costrette a lasciare immediatamente le loro dimore, né dei paesaggi antropizzati che l'uomo ha costruito e forgiato nei secoli. Assieme agli edifici spezzati hanno subito danni ingentissimi tutte le opere d'arte che gli edifici colpiti custodivano, in particolar modo gli edifici religiosi, le cattedrali, le chiese, le cappelle dei cimiteri, le edicole votive e crocevia, tesori che hanno contribuito nei secoli a tracciare e conservare la memoria di questi territori e delle generazioni di genti che li hanno abitati e che tuttora li abitano. Qui vi raccontiamo la storia di come un territorio afflitto dalla catastrofe reagisce subito, non solo mettendo in salvo le persone, ma anche proteggendo quei capolavori che fino al terremoto erano parte integrante della vita quotidiana. E' così che la protezione civile, le forze dell'ordine e i volontari, subito dopo aver messo in salvo il maggior numero possibile di persone, hanno cominciato sotto la guida della soprintendenza competente a recuperare le opere d'arte, estraendole dalle macerie. Il patrimonio artistico di questi luoghi, al di là del suo intrinseco valore artistico e storico, era parte della quotidianità degli abitanti dell'Arcidiocesi. Ed è qui che gli artefatti, uno per uno, sono stati estratti per essere messi a riparo e poi conservati. Ma che senso ha l'esistenza di un'opera semplicemente conservata, se non viene mostrata, esposta, goduta, in una parola vissuta? La vita riecheggia nelle opere. Da qui nasce il progetto di questo museo. Marec, Museo dell'Arte Recuperata Ad ottobre del 2016 in questo territorio c'è stato un grande terremoto che ha provocato tantissimi danni, sia le case dei cittadini ma anche il nostro patrimonio culturale. 350 chiese sono state danneggiate. Una ricostruzione che è partita dopo cinque anni, non solo per le chiese ma anche per tanti edifici privati, ma anche per il nostro mondo culturale, perché tra poco a San Severino Marche apriremo, credo, il più grande museo del cratere, il museo della rinascita delle opere, dove sono stati raccolti circa 3.000 capolavori di tutta la nostra diocesi, delle nostre chiese distrutte, questo darà una grande opportunità al territorio. Un'opportunità perché sarebbero state opere che per oltre 20 anni nessuno avrebbe mai visto e i nostri giovani potranno di nuovo ammirarle. un patrimonio che non è solo di questo territorio ma credo che sia dell'Italia intera ma dell'umanità intera. Quindi daremo la possibilità di poterle visitare, di poter riscoprire l'identità, anche la tradizione di tante nostre comunità disperse in questo territorio e sarà messo a disposizione anche un laboratorio di restauro dove quelle opere ancora ferite potranno essere recuperate. Questa opera siamo riusciti a realizzarla perché abbiamo partecipato a un bando europeo tramite la regione Marche che ringrazio profondamente. Il luogo dove verrà realizzato questo museo è il Palazzo del Vescovo che lo ha messo a disposizione per rendere più bello questo territorio. Quindi diventerà la casa comune di chi potrà andare a visitare queste opere e quindi un luogo di cultura perché la cultura ci aiuta a crescere nella vita, ci aiuta a innalzare l'anima, ci aiuta a godere delle bellezze che ci aiutano ad essere positivi nella vita. La realizzazione di questo museo che è un museo permanente di esposizione con le opere delle varie comunità ha anche la finalità che nel momento in cui verranno ricostruite e restaurate le chiese dei vari paesi possano ritornare anche alle loro comunità di origine perché è giusto che ogni comunità si riappropria anche dei propri beni quindi della propria storia e della propria identità. ma in questo frangente di tempo diamo la possibilità che possono essere ammirati da chi vorrà venire a visitarci. L'unico modo per rendere accessibili queste opere è poterle mettere in mostra in un museo altrimenti rimarrebbero nei depositi per tantissimi anni con il rischio che si perda anche la memoria di una bellezza credo inimmaginabile e ripetibile per l'umanità. La realizzazione di questo museo Marec Museo dell'arte recuperata è stata una grande sfida si è deciso di seguire un percorso che non sia né cronologico né tipologico né per eccellenze ma esattamente dal luogo di provenienza delle opere per cui ecco e noi troveremo la sala di Visso dove saranno esposte le opere di Visso poi la sala di San Ginesio la sala di Sarnano di Pieve Torina Fior di Monte Pieve Bovigliana. Dal 2016 anno del terremoto che ha reso inagibili la maggior parte degli edifici storici e le chiese dell'Arceogese di Camerino abbiamo adottato un motto chiusi per inagibilità ma aperti per vocazione ed è proprio su questa idea che abbiamo creato l'esposizione museale perché quello che ci importava è raccontare una storia che si collegasse alla vocazione che hanno le collezioni cioè qual è questa storia? È la storia che queste opere hanno ritrovato finalmente una casa una casa in senso concreto che è questo museo ma anche una casa in senso culturale ma anche ancora di più affettivo in quanto questo museo per noi rappresenta un po' quella piazza che molti paesi e molti borghi hanno perso e non hanno più L'altra idea su cui si fonda il museo è la realizzazione di laboratori di restauro laboratori che fisicamente sono vicini alle sale di deposito e che permettono un restauro sia per le tavole per le tele che per le orificerie e per i tessuti qui voglio ricordare due autentici gioielli che sono la Madonna di Macereto è una scultura linea proveniente dal santuario di Macereto esposta fino al terremoto del 2016 nel museo di Sant'Agostino Avvisso e rappresenta l'abbraccio più tenero del rinascimento tra la mamma e il bimbo l'altra opera è una tavola raffigurante della Madonna della Misericordia proveniente da Caldarola dalla chiesa di Santa Maria del Monte che fonde finezza gotica e plasticità mediterranea Visso non è più accessibile adesso non ancora appare così spettrale essenziale placida e stravolgente ad un tempo non c'è come si dice anima viva se non qualche saltuaria visita ufficiale delle autorità o di qualche abitante che con i dovuti permessi torna fugacemente per recuperare qualcosa dalla propria dimora o dalla propria bottega un luogo tuttavia non è animato solo dalle persone ma anche dalle opere d'arte che nei secoli hanno impreziosito i luoghi di condivisione di culto di vita l'arte sopravviverà alle proprie rovine dice Anselm Kieffer uno dei più grandi artisti contemporanei lui con le rovine con le macerie ci è cresciuto ci ha giocato da piccolo erano le macerie di una catastrofe non naturale ma umana troppo umana le rovine della Germania sconfitta durante il secondo conflitto mondiale c'è da chiedersi se la vita delle opere in qualche maniera insondabile prosegua anche quando nessuno ha la possibilità e il privilegio di osservarle di contemplarle di viverle c'è da chiedersi queste creazioni sepolte sotterrate ferite che cosa fanno vivono ancora sono piombate nel nulla in un sol momento di colpo là sotto si sono trasformate forse non solo nei loro aspetti materiali pigmenti tele cornici stucchi smalti ma anche simbolici e immateriali sono cambiate cioè non solo in quanto oggetti cose sottoposte ad un cataclisma ma c'è da chiedersi sono cambiate rispetto a noi sono cambiate per noi che le avevamo come parte della nostra normalità lo sguardo che si volge ai paesi colpiti come questo non può non far sorgere questi interrogativi chissà com'è mutata sotto le macerie l'arte che animava i monumenti i palazzi le chiese chissà se il loro recupero il loro restauro insomma se tutta la cura che possiamo dedicare loro non ce la restituiscano con un volto nuovo illuminato di una nuova luce di un nuovo spirito le opere sottratte allo sguardo dello spettatore continuano ad essere opere? il museo è una raccolta molto importante anche dal punto di vista della storia dell'arte è naturalmente un luogo nato in seguito a un'emergenza con una scelta di opere dettata da ragioni che non sono strettamente storico-artistiche e nonostante questo presenta una scelta che ci permette di ripercorrere la storia dell'arte della pittura soprattutto ma anche della scultura e di quelle che una volta si chiamavano le arti minori in quest'area che è un'area che possiamo considerare per molti versi omogenea dal punto di vista della storia dell'arte ci sono pittori e scultori che lavorano per tanti di questi luoghi creando un linguaggio comune grazie al quale si avverte un'area familiare quando si percorrono questi luoghi si passa dall'uno all'altro una testimonianza interessante della storia della devozione religiosa in questi luoghi è lo standardo bifronte della chiesa di croce di caldarola siamo abituati a conoscere gli standardi da processione come oggetti di tela oggetti leggeri maneggevoli e quindi facili da trasportare e in realtà c'è tutta una tradizione più antica che nelle marche si trascina a lungo nel 300 nel 400 e addirittura arriva fino al primo 500 di standardi invece su tavola quindi oggetti piuttosto impegnativi da trasportare sempre dipinti su entrambe le facce in modo da poter essere apprezzati da chiunque osservasse la processione da qualunque punto di vista e lo standardo di croce spicca per la sua notevole conservazione ancora tutta la sua cornice originale si vede ancora esattamente la base su cui si innestava l'asta per poterlo trasportare su un lato vi è raffigurata la Madonna della Misericordia che è un tema molto comune in questo tipo di oggetti sull'altro lato come spesso accade c'è la contrapposizione tra il tema mariano e il tema cristologico abbiamo quindi la crocifissione con i tre protagonisti essenziali il Cristo in croce e i due dolenti è un'opera che un tempo si riteneva di nobile da lucca che in questi luoghi ha lavorato a lungo e in abbondanza oggi si ritiene invece che si tratti di un'opera di un pittore di Tolentino ma di origini slave che si chiamava Marchisiano di Giorgio questa regione è interessata nel Quattrocento anche dall'attività di un grande scultore un grande intagliatore in legno attivo nella seconda metà del Quattrocento e anche nei primi decenni del Cinquecento una figura che gli storici dell'arte hanno individuato con chiarezza soltanto pochi anni fa attribuendole il nome di maestro della Madonna di Macereto dall'opera più importante più bella anche di questo gruppo e che ora è ospitata in questo museo appunto la Madonna col bambino per il santuario di Macereto sulla montagna di Visso ci sono state varie proposte di identificazione di questo scultore la più valida a mio avviso è quella con Luca Antonio Barberetti un camerinese vissuto grosso modo tra la metà del Quattrocento e gli anni Venti del Cinquecento c'è anche una piccola raffigurazione di San Sebastiano dalle misure curiosamente ridotte in genere le opere del maestro di Macereto di Luca Antonio Barberetti raffiguranti questo santo sono a grandezza naturale questa è una versione ridotta molto piccola è anche molto giovane il santo è una figura in effetti realizzata per un luogo dalle misure adeguate a questa a questa sorta di miniatura è una piccola chiesa in una località minore che è la frazione di Castiglioni presso Croce nel comune di Caldarola l'arte dell'oreficeria è rappresentata da alcuni esemplari in museo e su tutti spicca un oggetto veramente straordinario che è la croce cosiddetta di San Marco del museo di Visso un oggetto ricchissimamente decorato con due facce precisamente individuate nell'iconografia abbiamo su un lato le immagini degli evangelisti che circondano quella del Cristo pantocratore e sull'altra faccia abbiamo invece l'immagine del Cristo passo del Cristo che muore in croce con di conseguenza le immagini dei due dolenti da un lato e dall'altro la Madonna e San Giovanni Apostolo in alto c'è una figura quasi incredibile di un angelo che sembra lanciarsi si plana a incoronare la figura del Cristo quindi prefigurando già la futura gloria è un oggetto che va apprezzato in tutti i suoi straordinari dettagli nella lavorazione dell'oro negli smalti traslucidi che purtroppo si sono conservati soltanto in minima parte chi ne sia l'autore rimane ancora un piccolo mistero gli studi futuri forse ci diranno di chi si tratta invece forse i capolavori sepolti si possono immaginare non come la cenere come materia che un tempo era viva ma che ormai è destinata a rimanere inerte ma piuttosto come dei tenui fuochi delle strenue fiammelle che per tornare a brillare illuminare riscaldare ed animare hanno bisogno di ossigeno e questo ossigeno forse non è altro che lo sguardo di chi le ammira nel tempo dicevamo le opere d'arte cambiano subiscono dei mutamenti che potremmo definire geologici in senso figurato come questi infatti possono essere sia lentissimi millenari pensiamo ad esempio alle meravide della classicità greca e romana che repentini come la frana che ha sigillato per sempre la grotta di Lascaux che abbiamo menzionato in principio ci sono casi poi come quello del cratere del sisma del 2016 2017 in cui rapidità e lentezza si coniugano e agiscono sulle costruzioni e sugli artefatti in modo convergente e in gran parte inusuale e inaspettato è cambiata lei l'opera o anche la nostra percezione di essa dopo il terremoto non regna che il silenzio silenzio analogo a quello che ci investe ammutolendoci davanti a un'opera silenzio in cui dolore meraviglia e riflessione si fondono e trapassano l'uno nell'altro come trapassano e si mischiano pensieri antichi e nuovi ricordi e progetti struggimento e propositività paura e volitività sulla soglia dell'opera accade l'indicibile e l'impossibile si alimentano forze recondite emergono dagli abissi dell'inconscio i nostri desideri i nostri timori le nostre speranze insomma tutti gli aspetti della nostra identità che ci sono più oscuri e così veniamo attraversati dal pensiero che solo l'arte la poesia la pittura la musica siano l'unica realtà possibile l'unica realtà vera e che tutto il resto non sia che una pura illusione superficiale l'arte sembra darci la possibilità di un'apertura a quell'ineffabile che sosteniamo profondamente in noi senza riuscire a conoscerlo in modo chiaro e distinto di fronte all'opera è difficile limitarsi alla sola contemplazione tanto vale se si deve solo contemplare ammirare passivamente lasciarla perdere e volgere lo sguardo e l'attenzione altrove a qualcosa di più utile a distrarci ad evadere l'arte invece ci inchioda al pensiero alla riflessione bello è ciò che fa pensare molto dice Immanuel Kant è per questo che seppur di rado l'opera si anima e animandosi anima noi è come se accadesse una metamorfosi reciproca una fugace fusione inesplicabile tra noi e lei solo quando un'opera ci tocca smuovendo le sabbie profonde del nostro io essa è viva ardente e lo è ancor di più quando continua ad agire su di noi anche quando ci separiamo da lei l'opera d'arte ci ha cambiati e la lasciamo con sottile consapevolezza che non saremo più come prima nel Cinquecento Caldarola diventa la sede di una scuola pittorica o per meglio dire di una famiglia di pittori la vera esplosione di questa scuola di Caldarola si ha con la famiglia De Magistris il capostipite è Giovanni Andrea attivo per molti decenni a cavallo della metà del Quattrocento un'opera particolarmente affascinante di Giovanni Andrea che si può vedere in museo è la pala non molto conosciuta di Pievetorina con la Madonna e Santi e un donatore un ritratto di un donatore del quale non conosciamo l'identità ma che è una figura di grande intensità e con una caratterizzazione fisionomica davvero notevole è un po' una testimonianza di come alcuni di questi artisti del Quattro Cinquecento qui e in tanti altri luoghi riescano a dare il meglio di sé quando devono affrontare il campo del ritratto e non hanno quindi quei legami quei limiti ristretti imposti dai canoni dell'iconografia che regolavano la raffigurazione dei personaggi sacri il figlio di Giovanni Andrea De Magistris più famoso e anche più dotato quindi giustamente più celebre è Simone De Magistris che vive fino all'inizio del Seicento ci sono varie sue opere nel museo c'è una bella crocifissione molto forte dal patetismo molto acceso proveniente da San Ginesio da San Ginesio proviene anche la grande pala della Madonna del Rosario Simone De Magistris è il rappresentante più importante in questa zona della marca di quell'epoca della storia dell'arte che viene chiamata la maniera o il manierismo è un pittore che subisce varie influenze e l'amalgama in uno stile molto personale molto particolare che a volte raggiunge momenti di notevolissima felicità e in particolare penso alla grande pala della collegiata di Caldarola con il transito di San Martino con un grandioso squarcio di paradiso che si apre in cima alla tela e che quasi irrompe all'interno della chiesa nella quale è ambientata la scena uno dei gioielli del museo è La Madonna del Monte di Lorenzo D'Alessandro grande pittore proprio della città in cui si trova questo museo la città di San Severino pittore vissuto in sostanza nella seconda metà del Quattrocento muore proprio all'inizio del Cinquecento ma attivo per un'ampia zona delle Marche per Caldarola Lorenzo realizza nel 1491 che è la data iscritta nella parte bassa del dipinto questa tavola dall'iconografia molto particolare è una Madonna col bambino che protegge Caldarola la città è accompagnata dai suoi santi protettori ma in particolare protegge una iniziativa benefica che era una di quelle iniziative che si andavano attivando in quei decenni in tanti luoghi della marca spesso su iniziativa dei frati francescani osservanti che era un monte di pietà la grande stagione quattrocentesca della pittura a Camerino è rappresentata da due opere di uno dei maggiori esponenti di questo momento storico che è Giovanni di Piermatteo Boccati pittore di Camerino nato nei primi anni del Quattrocento e vissuto a lungo fino agli anni Ottanta del secolo nel museo è stata ricoverata la bella pala eseguita dal Boccati per la chiesa di Nemi di Fior di Monte oggi nel comune di Valfornace che non è datata ma dovrebbe risalire agli anni Sessanta del Quattrocento e insieme a questa si può vedere un'altra opera di Boccati che invece ha una data importante per scandire l'opera di questo pittore che è l'incoronazione della Vergine tra due Santi che sono San Venanzio e San Sebastiano eseguita per Castel Santa Maria nel comune di Castel Raimondo e c'è San Venanzio il patrono di Camerino ha in mano un modellino che non è un modellino probabilmente di Castel Santa Maria ma che vuole essere una rappresentazione estremamente sintetica della città di Camerino la città che aveva dato i Natali la città nella quale aveva subito il martirio nei primi secoli del cristianesimo quando sopraggiungono eventi che mettono a repentaglio l'esistenza fisica dell'arte stessa avvertiamo nella mancanza la sua potenza un tempo essa ci era forse talmente familiare che l'abitudine della sua presenza e della sua frequentazione aveva quasi intorpidito il fuoco vitale che essa con imperterrita forza tranquilla continuava ad infonderci è la tragedia che il nostro malgrado ci porta a vivere la sua potenza nella mancanza nell'assenza ma questa potenza questo fuoco appunto sebbene affievolito sebbene infiacchito non ha cessato di ardere sotto le macerie ha continuato ostinatamente ad ardere ad alimentarsi di quel poco di ossigeno di cui ha bisogno per non tramutarsi irreversibilmente in cenere anche nella lunga notte delle rovine post tenebras lux dicevano i latini dopo l'oscurità della notte viene la luce del giorno ce ne sono volute di notti nere affinché le migliaia di opere danneggiate e sommerse nel vasto territorio diocesano trovassero un ricovero un nuovo alloggio sicuro una nuova casa luminosa una nuova vita un nuovo inizio l'inizio è ancora marec museo dell'arte recuperata un nuovo inizio Grazie a tutti